Ben trovati a questa puntata della stanza del sindaco e con grande piacere che vado a presentarvi l'ospite che ci farà compagnia nella prossima mezz'ora, lo sapete noi ogni settimana invitiamo un sindaco a raccontarci la sua città e il suo modo di essere primo cittadino e ringrazio Massimo Seri, sindaco di Fano perché è davvero un onore, è importante che anche le grandi città siano rappresentate con il racconto appunto di chi le amministra, quindi grazie davvero perché sappiamo dei vostri impegni e non è semplice e questo può essere anche di stimolo quando magari invito i sindaci dei piccoli comuni che mi dicono a volte ho tanto da fare, allora io porto qualche esempio, adesso porterò subito il suo esempio di disponibilità, quindi grazie davvero. Ma in questa intervista vorrei iniziare ricordando che lei è sindaco per il secondo mandato vinto, è stato eletto nel 2019, un ballottaggio come nel primo mandato e io ricordo una delle sue prime dichiarazioni di se ha vinto la serietà ed è stato premiato il lavoro e non è una cosa scontata. Sì, grazie intanto, è un'occasione per poter parlare della mia città e dell'esperienza che sto vivendo, quindi saluto tutti i telespettatori che sono in ascolto. Il mestiere del sindaco, io lo chiamo mestiere perché è un lavoro a tutti gli effetti, è una delega importante perché è la delega che ti darono i tuoi concittadini con cui vivi quotidianamente, perché non sei qualcuno che arriva da lontano e il primo obiettivo è quello di non deludere chi ti ha dato la sua fiducia. ed è un lavoro entusiasmante ma allo stesso tempo difficile che ti carica di tante responsabilità oggettive ed emotive, perché è come amministrare la propria famiglia, perché la propria comunità e ripeto, poi per quello che mi riguarda c'è un rapporto anche di relazioni, umano, io penso che qualsiasi ruolo una persona svolga, quello della relazione sia un elemento fondamentale che fa la differenza. Mi è piaciuto che abbia ripreso questa mia battuta perché io penso, e le elezioni l'abbiano dimostrato, perché quella è stata un'elezione controvento, perché la direzione politica non andava certo nella mia direzione e c'è stato un risultato straordinario e quando si va controvento e la gente nello stesso istante vota per l'Europa in un modo e per l'amministrazione come un'altra in un'altra, significa che c'è stata una scelta consapevole, non ideale ma pragmatica che riconosce un lavoro svolto e devo dire, ne sono convinto perché nel primo mandato sono stati 5 anni impegnativi dove non mi sono fatto mancare nulla, perché tra le emergenze mi è capitato di tutto, ma ogni volta abbiamo dato risposte pronte, efficaci, efficienti e serie e giuste, perché è una parola giusta a cui non siamo più abituati e devo dire che questo mi è stato riconosciuto e poi c'è anche un dato oggettivo, nei primi 5 anni, io dico sempre, noi abbiamo fatto investimenti, quando dico investimenti intendo cantieri, opere già realizzate in corso d'opera o appaltate per 142 milioni, una città come Fano, che non è Milano, che non è Roma, è la terza città delle Marche, ma comunque parliamo delle Marche è una piccola regione in cui le città sono cittadine, perché la stessa città capoluogo è una città di 100 mila abitanti, quindi non parliamo di grandi metropoli, 142 milioni di interventi sono qualcosa di importante e la gente queste cose le comprende e penso che poi ci sia una valutazione di serietà e di riconoscere quello che uno ha fatto e quindi penso che quella per un sindaco sia la gratificazione più bella e più importante, proprio per il rapporto che uno ha con la sua gente, di cui è parte integrante. Questi investimenti che hanno caratterizzato il primo mandato, poi nel secondo bisogna farli diventare realtà, insomma lavori portati a compimento, non è mai semplice anche perché a proposito di emergenza poi voi siete i sindaci della pandemia, è brutto dirlo, ma è così perché lei è eletto nel 2019 e poi i primi mesi del 2020 arriva questa terribile emergenza sanitaria che poi diventa sociale, che poi diventa di tutti e che però colpisce in modo particolare, lo ricordiamo, il nord delle Marche e le due grandi città, Pesaro e Fano. Come ricorda quel periodo e le azioni che ha messo in campo? Le ricordo con tanta intensità, con forte emozione e con tanta sofferenza anche perché sono stati momenti difficilissimi, oggi non ce ne rendiamo conto perché diamo per scontato, ormai c'è un'organizzazione, ci siamo abituati, abbiamo superato i momenti di emergenza e quindi sappiamo come comportarci, anzi noi siamo alla fase della polemica forse, ma in quei momenti quando nessuno era preparato e come quando arriva il terremoto o l'alluvione, uno arriva all'improvviso non sa cosa fare. Bene, noi abbiamo dimostrato e in quel caso proprio all'inizio c'erano poche città, Milano, Bergamo, Piacenza, Pesaro, Fano e nessuno sapeva cosa fare, non si trovava una mascherina, tu devi garantire i servizi, la gente che iniziava ad essere cobrata in ospedale, la gente del lockdown tutti rinchiusi in casa, gente che non sapeva come mangiare perché non si trova, ripeto, una mascherina, non sapevi, poi in quelle situazioni ci sono, capita di tutto, dall'emissario dalla Cina, bene, lì abbiamo dimostrato che i sindaci sono stati pilastri di questo paese. Il governo faceva finimento su di voi? Il governo ha fatto, bisogna riconoscere che ha fatto tante cose e ci ha dato una grande mano, ma è passato attraverso il lavoro dei sindaci, se veniva meno il nostro lavoro sarebbe stata una tragedia, perché io ogni mattina arrivavo, convocavo il gruppo di lavoro, la prima preoccupazione era l'aiuto alla popolazione, perché oggi viene da ridere di dire aiuto alla popolazione, ma c'era gente che non poteva uscire di casa, erano tutti e due, c'era quello che perdeva un caro, non sapeva come fare, non poteva uscire, non poteva andare al funerale, l'altro che stava male, qualcuno doveva andare a prendere il medicinalio, prendere il pasto caldo, quindi noi preparavamo di tutto, io stesso per esempio con le maschine la raccolta dei rifiuti non si trovavano le mascherine, quelle adeguate per gli operatori, insomma veramente di tutto di più, io addirittura grazie anche alle mie relazioni ero riuscito a farmi mandare 50 mila mascherine dalla Germania, dalla città di Vosbro, con il quale avevo un rapporto con il sindaco, quindi… Magari alla vecchia maniera alzando il telefono. Alzando il telefono, mantenendo i rapporti, anche la serietà delle persone e l'altra cosa è che mi ha colpito, e devo dire, adesso io parlo della mia città, ma è abbastanza diffuso, ma Fano ha una caratteristica peculiare, un tessuto sociale di associazioni straordinarie. Sì, diciamolo, sì. No, ma noi abbiamo un elemento proprio statistico che Fano nelle marche, ma penso sia poi anche a livello nazionale tra quelle più alte, dove c'è la percentuale di maggior numero di volontari nella città. E lasciatemi dire… È una forza, eh. Che abbiamo una serie di associazioni che sono professioniste, cioè volontari, ma di altissimo livello, che spaziano dalla protezione civile alle associazioni sociali, culturali, che mi consentono, anche con le ristrettezze economiche, di poter organizzare tanti eventi, tante iniziative e tanti aiuti e servizi che altrimenti sarebbe difficile realizzare. E mi piace pensare che anche la mia provenienza, la mia cultura, la mia capacità di saper coinvolgere, perché la forza di un sindaco non è solo quella di avere idee, è importante, ma è anche quella di far volare le idee e quella di lasciare esprimere chi queste capacità le ha. E su questo penso che sia uno dei meriti senza falsa modestia che io ho… Il famoso fare squadra. Fare squadra. E la gente, perché sono il primo a mettermi in discussione, sono il primo a mettermi sullo stesso piano e c'è questo lavoro di sussidiarietà che fa veramente la differenza e di cui sono anche molte volte orgoglioso, perché anch'io ogni volta, nonostante che ormai sono più di sette anni che sono sindaco della mia città, non finisco di sorprendermi. A proposito di cose che sorprendono, lei l'ha accennato, dice adesso è addirittura il tempo delle polemiche, sembra passato chissà quando da quell'emergenza, mentre invece sappiamo come ci si deve comportare adesso per contenere la diffusione della pandemia, c'è una campagna vaccinale che nelle Marche dall'inizio, pur con qualche criticità, comunque è andata piuttosto bene, i marchigiani hanno risposto. che impressione le fa questa resistenza di una parte minoritaria che però da una parte probabilmente va ascoltata e dall'altra va anche contenuta, dico io, siamo in una fase piuttosto delicata, perché si parla di terza dose, anzi sono già aperte le prenotazioni nella regione Marche anche per gli over 40 e però c'è ancora chi dice no. Sì, intanto un altro elemento che mi sono dimenticato ma fondamentale è anche la comunicazione che noi abbiamo fatto in quei periodi, invitando le persone al senso di responsabilità, esprimendo giudizi, dando il buon esempio, perché poi i primi che chiedono devono dare il buon esempio. Per quello che riguarda i vaccini i numeri sono importanti, c'è stata una bella risposta anche dei giovani, devo dire perché io parlo sempre della mia città, che mi ha anche sorpreso perché magari potevano essere più egoisti e dire non mi interessa perché sappiamo benissimo che questa pandemia colpisce più le persone più fragili e che sono quelli che hanno più anni rispetto ai giovanissimi, forse spinti anche da un senso di libertà perché senza il Green Pass, senza la vaccinazione si doveva vivere delle restrizioni. Però ecco, il comportamento dei cosiddetti novax, io dico un comportamento sotto certi aspetti viziato, in un paese per fortuna democratico che garantisce tutti, dove alcune volte ci si approfitta di determinate situazioni, perché democrazia significa libertà, anche la libertà ha un limite, il limite è quando io vado a incidere sulla libertà di altri, anzi quando il mio comportamento può diventare un elemento di danno, di disturbo per la collettività nel suo insieme. Quindi questo comportamento è ingiustificato, uno può rispettare la scelta di dire io non me la sento, ho delle difficoltà per carità, rispettato tant'è che non c'è l'obbligo, non c'è una legge che dice tu lo devi fare, però se tu scegli di non farlo non puoi diventare un elemento di preoccupazione per altri. Ecco, e anche queste proteste, questi comportamenti volgari, e sono generoso, abbiamo visto anche le ultime scene dei colleghi Lucarelli, che è stata aggredita, verso la quale va tutta la solidarietà e la stima, ecco, certe cose non si giustificano, ma soprattutto il danno che portano ad altri, penso alla città di Milano, ai milioni e milioni di danni che fanno a gente che onestamente lavora, che si comporta rispetto alle regole, ecco, questi comportamenti sono ingiustificabili e francamente incomprensibili. Per non parlare poi di quanto si è messa in gioco, impegnata, ha rischiato tutta la parte medico-sanitaria, che ha visto anche gli amministratori sostenerli in diverse maniere, ecco, una città come Fano che nella prima ondata ha avuto una situazione di difficoltà estrema, ha avuto però una risposta accretta e eccessiva. Sì, devo dire, io ho, non mi bastano le parole per esprimere la gratitudine e il plauso agli operatori sanitari, e devo dire per quello che riguarda la situazione di Fano Pesaro, perché noi abbiamo Marche Nord, che sono i due ospedali che lavorano come se fosse un unico ospedale, hanno dato una risposta straordinaria, veramente straordinaria e umana, perché anche su questo, dove la direttrice generale chiamava le persone per nome, quindi significa che tu uno stava sul pezzo, era lì giorno e notte, con una grande umanità, quindi hanno avuto la capacità di mettersi in discussione, di riorganizzare tutto e quindi dobbiamo dire che in quel momento abbiamo avuto anche un grande presidente, Luca Ceriscioli, che oggi non è più presidente, auguro buon lavoro ai nuovi, però in quel momento ha dimostrato di essere persona competente, capace e seria, molto vicina anche ai territori, ai sindaci con i quali ha dialogato costantemente, lo dico perché sono testimone oculare e francamente in quel momento difficilissimo, se ci fosse stato qualcun altro non so se avrebbe ottenuto lo stesso risultato, perché con il seno dei puoi tutto è facile, ma in quei momenti posso garantire perché li ho vissuti in prima persona, non era affatto facile, bisognava rimettersi, ripeto, in discussione, riorganizzarsi, inventarsi le cose, cercare di capire e assumersi tante responsabilità. E fare delle scelte, ricordo il Covid Hospital realizzato… Quante critiche, ma poi abbiamo visto che ci aveva visto lungo. Sì, assolutamente, è stata una struttura strategica e che posso dirlo ha salvato anche delle vite e non è poca cosa, anzi. Sindaco, come si riparte? È cambiata la gente? Quella gente che lei, che è un sindaco, conosce in questa pandemia? Sta cambiando? I grandi avvenimenti inevitabilmente ti portano a riflessione, ti portano a dei cambiamenti, ci abituiamo a determinate situazioni, ci rimettiamo in discussione, cambiano le cose, cambiano le sensibilità e questo vale per chi ha responsabilità ma anche per chi le vive quotidianamente, devo dire di sì. Abbiamo visto quante cose non hanno funzionato e quanto cose vanno ripensate anche sul piano sanitario e quindi anche chi ha oggi la responsabilità, non può far finta che quel periodo non ci sia stato e che c'è la necessità di rivedere determinate cose perché ha evidenziato i limiti e le fragilità e ha valorizzato invece alcune scelte che erano giuste. La gente, qui è difficile descrivere perché c'è di tutto, c'è chi cambia con una maggior sensibilità, chi è più nervoso, chi è più arrabbiato, va detto che il sistema paese però complessivamente ha funzionato, c'è stata una risposta vera perché al di là delle proteste protestano i no-vax, protestano, ci sono stati momenti, se volete, di tensione ma erano inevitabili, ma in realtà il paese ha vissuto quei momenti rispettando anche le indicazioni che arrivavano perché vuol dire che c'è stato i ristori, ci sono state azioni ai vari livelli da quelli nazionali a quelli regionali a quelli comunali che sono intervenuti nelle situazioni più difficili perché altrimenti ci saremmo trovati in situazioni di tensione sociale forti e se queste non ci sono state… Che a pensare non ci sono state nei momenti più complicati… Esatto, perché significa che ci sono state delle scelte che in qualche modo hanno dato delle risposte e la gente ha sentito le istituzioni vicine e questo c'è stato, poi siamo sempre critici, guardiamo giustamente sempre in meglio, sempre a quello che non abbiamo fatto rispetto a quello che c'è stato, però ecco su questo, se mi sento di dire, come tutte le esperienze ci rende più forti, quindi c'è un atteggiamento verso il futuro, verso le sfide con maggior grinta, con maggior determinazione, oggi abbiamo una serie di opportunità straordinarie grazie anche all'Europa, vedete anche il commento e la riflessione verso l'Europa è cambiata, assolutamente, se torniamo io di due anni l'Europa era il male di tutti i mali, io dico che era una… Con una Gran Bretagna che ha fatto una scelta che oggi paga tantissimo. Dopo, se si entra negli argomenti non si può essere demagogici e se parliamo di Europa dobbiamo dire, io do una traduzione perché c'era quel comportamento, perché avevamo delle difficoltà, chi rappresentava l'Italia, aveva responsabilità, trovava, cercava un alibi per una propria incapacità nel dare delle risposte ed è facile dare la colpa ad altri, ma in realtà se esaminiamo la storia di questi anni, vediamo che nei momenti più difficili l'Europa è stato un aiuto, lo vediamo anche oggi che la rinascita passa attraverso il PNNR e con tutto quello che ne consegue. E l'Europa dice sindaci un'altra volta, addirittura il livello più alto della politica, dell'amministrazione, dice sindaci siate protagonisti di un rilancio, lo dice tramite il governo del Paese. Lo stesso Premier Draghi lo dice, lo ha detto anche la nostra Assemblea di Parma, ma è vero perché… Questo vi scarica qualcosa o no? No, però io fra l'altro faccio parte anche della delegazione italiana in alcuni organismi europei, nel Consiglio d'Europa e nel Consiglio dei Comuni e Regioni d'Europa e ci confrontiamo tra noi. Io sono arrivato ad una conclusione, ma lo tocco con mano, che tutte le grandi strategie che siano nazionali, che siano internazionali, la stessa agenda 20-30 delle Nazioni Unite, quindi il massimo organo mondiale, ci dimostra che tutte le scelte per il 60% del suo successo passano attraverso l'attività dei territori. Per cui parliamo di ambiente, ma l'ambiente se poi di territori e la gente non cambia comportamenti, non si fanno scelte che vanno verso una direzione anche culturale, ce le raccontiamo e basta, diventano ragionamenti accademici. Quindi il ruolo dei territori, di chi le rappresenta in questo caso i comuni, nelle municipalità di tutto il mondo, diventano fondamentali e nel nostro Paese questo momento di ripresa e anche il successo dell'utilizzo delle risorse dipenderà molto dai territori, dai comuni in particolare. Dipende anche dalla scelta che verranno fatta anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane di responsabilità vera e di mettere strumenti e risorse per poterle tradurre poi in opere, in azioni e in servizi fondamentali per la ripresa e la crescita del nostro Paese, tutto e delle nostre città. Allora non siete solo i sindaci della pandemia, siete anche i sindaci delle opportunità. Per Fano lei a cosa pensa? Sei intanto, adesso poi a Fano c'è il carnevale, la maschera e il voulon, da noi il voulon è quello che le spara grosse, si dà le arie. Io mi sono dato una mission, lo dico sorridendo perché, però la verità si dice scherzando. Io sono convinto per una fortuna che ho avuto, che Fano ha avuto, di avere una grande eredità, che ha oltre 2000 anni di storia, era al terminale della via Flaminia con tutto quello che ne consegue, la fortuna di chi ha amministrato negli anni di aver conservato e non aver distrutto tutta una serie di testimonianze, ha un grande potenziale. E io penso, adesso non la più bella perché direi, offenderei colleghi bravissimi con i quali c'è anche un bel rapporto, però veramente Fano ha tutte le caratteristiche per diventare ed essere una delle città più rappresentative, belle e visitabili della nostra regione. L'ambizione che mi sono dato, proprio lo dico sempre, bisogna volare alto, bisogna essere ambiziosi, un'ambizione collettiva, magari fare meno cose, ma quelle che si fanno ad altissimo livello. E fino ad oggi ci siamo mossi in questa maniera, la città sta assumendo un volto nuovo, abbiamo fatto tante riqualificazioni e ho una serie di progetti, tant'è che sono talmente veloci che la macchina amministrativa non riesce a seguirmi. Oggi vivo questo conflitto positivo di spingere, ma devo dire grazie perché effettivamente a tutti gli operatori, collaboratori dell'amministrazione, che questa mattina come sono arrivato alle 8 un quarto, eravamo già a un tavolo di lavoro proprio sugli incarichi, sulle progettazioni da realizzare per poterle terminare e farle partire, perché poi la soddisfazione è anche quella di vedere qualche nastro. Io sono consapevole che lascerò un'eredità straordinaria a chi verrà dopo di me per tagliare tanti nastri. Quindi penso che veramente la città stia cambiando volto in termini di bellezza, in termini di accoglienza, ma anche di servizi, perché l'altro elemento vero che io reputo importante è che una città nelle sue articolazioni, nella sua organizzazione deve guardare a tutti i quartieri, a tutte le realtà, a cominciare da quelle più periferiche. e poi, ripeto, se andiamo a fare assemblee tutti siamo di serie B, tutti i cittadini, ma è un normale. Però se si va a analizzare, veramente c'è stato in questi anni e continuerà ad esserci una grande attenzione su questo, che si chiama anche ad un grande progetto, che è quella della Fanocità dei Bambini e delle Bambine, che è un progetto che quest'anno compie 30 anni, che nel 1991, il 27 maggio, quando nasceva con questa sua iniziativa, felice intuizione, ma è qualcosa di straordinario, vi do un'anteprima, io il 7-8 dicembre sono a Lione, ospite d'onore, Lione è famosa per le sue festività, per quel gioco delle luci, che è un evento internazionale, e quest'anno il tema ai Bambini e io sono ospite d'onore, perché ho un pomeriggio dove proprio ci sarà un focus dedicato a questa esperienza, perché, come dico sempre io, non è un progetto per bambini, è un progetto di città, è un progetto di città inclusiva, dove prende come parametro il bambino, come soggetto fragile in quanto ha bisogno di un aiuto, e se una città è a misura di bambini, è a misura di tutti, quindi è a misura dell'anziano, è a misura della mamma che è in dolce attesa, della persona che ha delle disabilità diverse. E poi è una città che guarda al futuro, se pensa ai bambini e alle bambine, in una regione che invecchia. Sì, in un paese che invecchia. In un paese che invecchia. Però ecco, dove c'è un'altra attenzione, il bambino non è il cittadino del futuro, è cittadino di adesso, dove lo ascoltiamo, e anche qui grande sorprese, noi abbiamo adottato alcune iniziative che sono suggerimenti loro, ve ne dico una che è un grande successo, noi abbiamo questo consiglio dei bambini, abbiamo fatto un progetto straordinario, funzionato, che si chiama quartiere a misura di bambino, facendolo in tutti i quartieri significa poi farlo per la città, dove abbiamo chiesto ai bambini di quarta e quinta elementare di riprogettare dalla loro visione il quarta e quinta elementare, con le loro suggestioni, da lì siamo passati ai genitori, dai genitori siamo passati alle realtà associativi, insomma Morale della Favola abbiamo avuto un coinvolgimento vero di oltre il 60% delle persone che vivono quella realtà, sfido chiunque a fare iniziative attuali, una partecipazione così vera, condivisione e risultato far condividere, dove ci sono anche interessi diversi, commercianti, con chi vuole la pista ciclabile, togliere dei parcheggi per fare le ciclabili, andare a scuola i bambini a piedi, alimentare da soli a scuola e tornare da scuola, sono grandi i risultati che poi cambiano la qualità della vita di un quartiere e di una città, ma tornando all'esempio, in uno di questi consigli dove noi raccogliamo i loro suggerimenti, ma li ascoltiamo davvero, ci dicono ma voi tutte le cose che organizzate, pensate sempre a voi, vi dimenticate che ci siamo anche noi, ma noi ci annoiamo, quando andiamo a teatro, veniamo alla fiera, andiamo al carnevale con gli adulti, ci annoiamo, dovete pensare agli spazi per noi, effettivamente, da lì abbiamo adottato un criterio che in tutti gli eventi, che sia il brodetto fest, che sia il jazz, che sia il teatro, che a mano sono tantissimi, c'è uno spazio dedicato a loro ed è stato un successo, oggi non c'è attività iniziativa che non preveda questo, a cominciare dal carnevale dei bambini, dove magari possono stare tra loro, in libertà, in sicurezza i liberi, perché anche qui quando chiediamo ai bambini di giocare, in realtà non li lasciamo mai liberi, non fare questo, stai attento, ti fai mare, non andare di là, noi dobbiamo lasciarli liberi, di esprimersi e di crescere in autonomia, ecco questa è una sfida che noi penso, non dico abbiamo vinto perché non si vince mai, tra loro ci sarà il prossimo sindaco di Fano, del futuro, però voi li state anche educando, li state anche abituando a certi tipi di discorsi e non è sicuramente usuale. Sindaco, il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che lei parlava di fragilità, è un fenomeno che purtroppo è in aumento in tutto il mondo, guardiamo i casi italiani, il report sulle marche ci dà una fotografia con alcuni dati che sono preoccupanti e dicono essere solo la punta dell'iceberg e poi sappiamo quante difficoltà ci sono per queste donne nel fare la prima mossa, di solito la denuncia, la segnalazione di una situazione di difficoltà o di violenza quando le cose sono più gravi e molti coinvolgono anche i bambini. Fano che ha questa spiccata sensibilità che ci diceva lei, organizza in questo periodo e dico io, insomma, l'attenzione deve essere sempre, no? Sì, tante iniziative. Mi sono dimenticato di una cosa riferita al Covid, la voglio citare perché proprio questo sabato inaugureremo il Bosco della Memoria, pianteremo una pianta per ogni persona che abbiamo, che la comunità ha perso. Quello è un modo di fare comunità, un modo per non dimenticare, per non dimenticare una tragedia, ma per non dimenticare anche le persone. Che sono state tante. Che sono state tante. E quindi faremo questo momento. Dove? Lo faremo nella zona Vallato, per chi è di Fano, c'è questo nostro campo dell'amministrazione comunale e pianteremo 185 piante dove verranno i familiari e ognuno adotterà una pianta che sarà il riferimento della persona cara. Venendo al 25 novembre, ma in realtà è una settimana di eventi, di iniziative nella nostra città organizzate, però quello che vorrei sottolineare, sì, il 25 è una data simbolo dove c'è una celebrazione, ma in realtà una celebrazione è un momento per fare un bilancio, un momento di riflessione, ma in realtà il lavoro è tutto l'anno. Perché qui c'è una sfida culturale innanzitutto, perché purtroppo le notizie che registriamo ogni volta sono una ferita, un pugno nello stomaco, diciamo ma è possibile che ancora oggi accadano determinate cose. Nonche perché poi ci sono i servizi sociali che intervengono in molte situazioni. Sì, ma in un paese come il nostro ci sentiamo, qui alla fine siamo il quinto paese, il sesso, sono tra i primi dieci al mondo, dove c'è una certa opulenza, perché al di là della mentele c'è una certa libertà, democrazia, che accadono queste cose che sono di un'ignoranza, di una volgarità, di una violenza inaudita, ingiustificate. Che poi i dati, scusi sindaco, ci dicono che la maggior parte sono italiane, nella fascia non è altissima. Sì, perché qui guarda non c'è, non c'è neanche povertà, la ricchezza, ci colpisce tutti. La stupidità veramente non ha confini e non si ferma. Non ha laurea. Esatto, esatto. Su questo devo dire, Fano è molto sensibile, tante le attività, le organizzazioni, da parte le iniziative che si organizzano al 25, ci sarà un consiglio comunale aperto con la partecipazione di ragazzi e di rappresentanti delle istituzioni, ci sono ieri una cosa delle panchine, ci sono dei flash mob, ma c'è un'altra cosa che voglio, che è un elemento di distinzione forte, venerdì inauguriamo anche uno spazio, pari centro, che è il centro documentazione per la donna, ma in realtà è un luogo delle pari opportunità, è un luogo che affronta queste questioni. Anche su questo però vorrei dire, non è una questione che riguarda la donna, riguarda tutti, riguarda il nostro vivere quotidiano, riguarda i messaggi che noi trasmettiamo, anzi a maggior ragione dovrebbe riguardare più l'uomo che in qualche modo è il protagonista negativo di queste situazioni e c'è da fare un lavoro veramente culturale, di sensibilità della gente, a cominciare dai più piccoli, perché se ci pensiamo anche quando si gioca ai bambini, già trasmettiamo degli stereotipi dell'uomo e della donna dividendo i ruoli, dei maschi e delle femmine, ecco anche su questo ci vuole una sensibilità, perché le vere vittorie sono di carattere culturale, il resto è tutto una conseguenza, ecco la vera sfida e anche su questo i sindaci su tanti temi ambientali, sociali, di accoglienza, di emarginazione, di violenza e possono fare un lavoro di contaminazione positiva tra la propria gente, alcune volte sfidando anche alcuni tabù, dicendo cose che magari ti rendono meno impopolare, però ecco la sfida è questa e sono anche convinto che se siamo credibili alla fine la gente ci capirà, anche se alcune volte diciamo qualcosa che non fa piacere o qualcosa che non è facilmente comprensibile subito. È il famoso coraggio delle idee che bisogna ritrovare in certi casi o incoraggiare in altri. Sindaco, davvero ci sarebbero tanti temi, se le dovessi chiedere, lei ha amministrato 5 anni, siamo al giro di boa quasi del secondo mandato, come le piacerebbe lasciare la sua Fano a fine secondo mandato, dopo 10 anni? Beh, mi piacerebbe lasciare una città più bella, ma di questo ne sono convinto. E lo sta facendo? E lo sto facendo, lo dico senza falsa modesta, proprio in senso oggettivo. Mi piacerebbe lasciare una testimonianza positiva che la gente possa dire, il sindaco Seri è stato un esempio innanzitutto, ma qualcuno che ha svolto il ruolo di sindaco con amore, con competenza e con professionalità e nello stesso tempo lasciare una città più consapevole delle proprie forze, consapevole delle proprie forze, che sia più protagonista e copartecipe. E su questo penso che un cambiamento ci sia, c'è ancora tanta strada da fare, quindi è un testimone che vorrò lasciare ed essere ricordato in questi termini. Città più bella e cittadini e cittadine più consapevoli della potenzialità che ha e così con questa consapevolezza che siano più protagonisti nella vita cittadina. Mi sembra un'aspettativa non solo realistica e realizzabile, ma anche piuttosto alta, quindi le auguro buon lavoro. Ultimissima cosa, una cosa proprio che dice io prima di finire il mio mandato questa me la voglio, la voglio portare a casa. Ce l'ho. Sulla quale sta lavorando. È una chicca che però non voglio rivelare, però è una cosa che riguarda il senso di accoglienza, di pace e di bellezza della città. E quindi la seguiremo e sarà una cosa... Intanto ho chiuso il primo mandato con un'opera straordinaria, la riqualificazione di tutto lo spazio del Pincio che noi chiamiamo, dove c'è l'arco d'Augusto, dove c'è la parte medievale, quindi l'essenza classica della nostra città, l'ingresso molto apprezzato della città perché è veramente qualcosa di suggestivo, di affascinante. Anche ai turisti devo dire, e anche se non sembra, ma quando si fanno le cose belle poi portano a cascata anche benefici, magari uno non le tocca, non le percepisce, ma poi con gli anni vedi la differenza che in termini di numeri, che sono la controprova di quando un'iniziativa ha avuto successo o meno. Lei mi conferma quello che dicono molti sindaci, un occhio alla buca, alla strada, al marciapiede e l'altro che guarda oltre anche la propria città, anche questa doppia capacità. Io ho avuto sempre un profilo internazionale perché i confini, figuriamoci poi quelli locali, mi sono sempre andati stretti. Ho avuto tante relazioni, anche le mie esperienze di vita personale mi hanno portato a viaggiare molto, a conoscere, a relazionarmi e penso che una città che si chiuda ha perso prima di iniziare. Una città aperta che si accoglie alle sfide può farsi male, può sbagliare, ma alla fine vincerà e sicuramente avrà dei benefici. Intanto io, come faccio sempre, invito, adesso tra un po' ci saranno anche le feste, il Natale, prima c'è il Ponte dell'Immacolata, insomma ci sono occasioni per andare a vedere le nostre città. Fano è straordinaria, ha tutto, si mangia bene, c'è un centro meraviglioso, si può fare shopping, si può andare al mare anche l'inverno. La festività è in forte fermento, ha un fermento culturale, sociale e ha la fortuna di aver avuto, come dicevo prima, questa eredità che è uno scrigno di grandissimo valore, magari non sempre conosciuta, chi viene rimane piacevolmente sorpreso e quindi anche in queste festività offre molto. Abbiamo un programma ricco, ci sono delle cose, delle chicche da vedere, a cominciare dal presepe, abbiamo un presepe veramente bellissimo dove vengono pulmoni organizzati sull'Italia per visitarlo, ma le tante iniziative nel centro storico, dal mercatino in questa realtà che abbiamo inaugurato un paio d'anni fa, dalle attenzioni verso i più piccoli, ma per tutte le fasce d'età e concerti, veramente c'è di tutto. C'è di tutto, tutto l'anno e c'è sempre un sindaco che, lo avete ascoltato, ama la propria città e la vuole rendere sempre più bella, più vivibile, più accogliente, eppure si ha tante responsabilità e c'è un grande lavoro, un mestiere da fare. Ogni giorno sempre diverso, almeno questo sì sindaco. Sì, e ogni giorno c'è una sorpresa, uno dice veramente c'è qualcosa di nuovo e quel qualcosa di nuovo che è sempre una sfida ulteriore. E poi c'è questo rapporto con la gente che io sento vicino, devo dire la verità anche magari chi ti critica, perché tanto è la dote che ci portiamo dietro, quello della critica della gente. Però percepisco che c'è anche un affetto, una vicinanza. Guardi, anche nei momenti più difficili, in piena pandemia, una cosa che mi ha colpito, ricevevo dei messaggi, anche dei parroci, di incoraggiamento, sindaco non sei scoraggi, vada avanti, noi siamo vicini, la stiamo seguendo, grazie per quello che fa. E sono veramente un incoraggiamento e ti fanno sentire che non sei solo, che sei un riferimento e penso sia la gratitudine più grande che noi possiamo avere. Perché fare questa scelta che se la si mette su una bilancia dici dalle responsabilità, le denunce che ricevi, gli avvisi di garanzia, uno dice ma veramente? Però ecco, questo ti ripaga, devo dire è la grande soddisfazione nel fare il sindaco proprio questo, l'affetto, la riconoscenza, anche quando ti critico, quando si arrabbiano con te della gente, ma ti dimostra che poi alla fine ti vogliono bene. Ed è quello che noi vogliamo raccontarvi ogni settimana con loro, perché non ci inventiamo nulla, viene proprio da loro, dal comune più piccolo a quello più grande, tra i più grandi, come in questo caso. Le auguro buon lavoro, le auguro di realizzare per la sua città, per il suo mandato, quanto ci ha raccontato, quanto non ci ha detto, che quindi andremo a scoprire e di vivere giorni migliori tutti, con il contributo di tutti, perché solo così probabilmente con grande responsabilità si può, se ne può uscire. Quindi grazie a Massimo Seri, il sindaco di Fano, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia all'appuntamento, a settimana prossima. Grazie a tutti! Grazie a tutti!